Conseguita la maturità classica, si laurea in giurisprudenza nella sua città, studia sia in Italia che negli Stati Uniti presso l'actor, este studio e seguendo dei corsi di perfezionamento teatrale con Bernard Hill a Los Angeles, oltre che in teatro, recita nel cinema, dove debutta nel 1998 con il film Bagno Maria, regia di Giorgio Panariello. È in televisione, dove partecipa varie fiction tv di successo come le serie tv Il Bello delle Donne 2 e 3, 2002-03, il film tv Imperia, La Grande Cortigiana, 2005, regia di Pier Francesco Pingitore, le miniserie tv Caterina e le sue figlie, 2005, regia di Fabio Yefcott, e L'onore e il rispetto, 2007, regia di Fabio Yefcott. Di Salvatore Samperi che la dirige, insieme a Luigi Parisi e Luciano Dorisio, anche nella miniserie Il Sangue e la Rosa, 2008, in onda come le precedenti su Canale 5.